Carissimi, mi rivolgo direttamente a voi e rompo il silenzio di questi giorni, un silenzio contraddistinto dalla riflessione e anche dall'amarezza, amarezza per quello che è accaduto in generale, anche se sono grata alla magistratura per aver ben evidenziato che l'amministrazione comunale di Piacenza non c'entra assolutamente nulla, se non per un caso isolato che spero venga chiarito quanto prima. Quello che mi ha colpito di più e che mi ha amareggiato è stato sicuramente percepire il disorientamento di molti cittadini di fronte agli accadimenti che ci sono stati, ma vorrei proprio lanciare questo messaggio, far ripensare a tutti quello che è stato l'impegno che i sindaci e gli amministratori hanno portato avanti nel periodo più difficile rispetto al dopoguerra, il periodo del Covid. Questo territorio ha lavorato, io ho lavorato molto insieme a voi, insieme alle categorie, insieme alle imprese, insieme ad ogni singolo piacentino. In quel periodo, il periodo del Covid, vorrei ricordare che alla sera si arrivava senza più neanche una lacrima per piangere, perché comunque bisognava affrontare delle situazioni difficilissime, l'abbiamo fatto insieme. L'abbiamo fatto insieme con grande determinazione, con grande spirito di responsabilità, di abnegazione, perché voglio ricordare che quando un amministratore sceglie di fare il sindaco, sa che deve sacrificare innanzitutto quella che è la sua vita, perché la deve mettere a disposizione della città, deve fare un servizio, deve avere una dedizione, quella che poi porta ad anteporre gli interessi di tutta la comunità rispetto a quella che è l'idea del singolo. E allora, vedete, io penso che sia molto importante ricordare questo, per capire come insieme abbiamo fatto delle grandi cose. Questa amministrazione ha portato avanti sicuramente l'ordinario, così come ha portato avanti lo straordinario. Un straordinario, a mio avviso, impensabile, perché nonostante le grandi difficoltà, abbiamo realizzato dei progetti e stiamo realizzando dei progetti che saranno quelli che consentiranno il futuro della nostra città, il futuro dei nostri giovani, delle nostre imprese, della nostra economia. Quindi un lavoro sicuramente molto importante. Io non ho avuto sicuramente un mandato facile, dall'inizio non ho avuto un mandato facile, però non è mai venuta meno quella voglia di fare e soprattutto quella passione che deve guidare il lavoro di un amministratore. L'ho fatto per cinque anni con un grande sacrificio, lo rifarei ogni giorno perché comunque è un sacrificio che vale la pena di essere vissuto, perché basta il sorriso, il grazie di un cittadino per ripagare di tutte quelle che sono le situazioni negative che si possono affrontare. E allora proprio con questo spirito io, dopo un periodo di riflessione, ho ritenuto di sciogliere le mie riserve, di fermi ancora a disposizione della mia comunità. Perché il mio partito è Piacenza. Sono orgogliosa di essere il vostro sindaco, non vi deluderò mai e vi ringrazio. Vi ringrazio per la fiducia che mi avete accordato e per quella che mi vorrete accordare. Grazie a tutti.